Il ghiaccio ha parlato, il Cortina ha sollevato la Supercoppa battendo 4-1 i Mastini. La partita però ha detto molto più del risultato. I gialloneri tornano dal Veneto con la consapevolezza di essersi giocati un match quasi alla pari contro una squadra di categoria superiore. Tutta la partita, a parte i primi dieci minuti, secondo me ci sono giocati alla pari e sono molto soli, siamo molto contenti, quindi abbiamo la consapevolezza che comunque siamo veramente una bella squadra e che possiamo far bene. Se in campo si è visto un certo equilibrio, fuori non c'è stata partita. I tifosi dei Mastini hanno rubato la scena prima, durante e dopo. Le strade di Cortina come il centro di Varese, canti e cori in attesa dell'apertura dei cancelli, tifo sfrenato durante il match e applausi all'uscita per ogni giocatore.